E' incrociato lo stacco di Cori e il gol dell'Alessandria al 34esimo, angolo di Sini e colpo di testa di Cori che si è esibito nella specialità della casa, il colpo di testa, palla angolata, nulla da fare per Fallani e Alessandri in vantaggio al 34esimo con il colpo di testa di Cori, gol preziosissimo e fondamentale davvero per l'Alessandria, quello di Cori. 1-0 Alessandria, i cambi allora per la Re Canatese che deve rincorrere lo svantaggio.